allora adesso scherzo sempre il 28 di aprile mezzogiorno 10 dice collega qua adesso vediamo se trovo che cosa dove c'è scritto su anche la data che così nessuno dubita più sull'autenticità comunque io l'ho pubblicato così per far vedere le differenze tra italia e germania e non per fare polemiche chi è meglio chi è peggio ecco qua mezzogiorno e un quarto ecco qua da un mire Grazie. Allora, adesso sono medogiorno e 15 all'incirca, sempre a Regensburg, sempre il 28 aprile del 2020. Grazie. Sono in fila, tutti a due metri di distanza, per andare a mangiare al chiosco. Grazie. Grazie.